ciao 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 a tutti eccomi qui con gli acquisti effettuati su tigotà online io ordino sempre online su tigotà adesso a maggior ragione ecco due scatole iniziamo subito per prima cosa l'additivo per i bucato per i capi colorati additivo igienizzante smacchiante io lo uso sempre insieme al detersivo normale quello è per i capi colorati e questo invece è per i capi bianchi ossigeno attivo già 20 gradi sostituisce la candeggina bianco puro vedete smacchia igienizza ossigeno alle fibre eccetera eccetera è un additivo anche questo che uso sempre per i capi bianchi e vi lascerò comunque i prezzi poi questi sono è un liquido attivatore per che ha acquistato mia figlia che ho acquistato per mia figlia un'emulsione ossidante a 10 volumi che lei usa per farsi la tinta in casa lei non compra le tinte già preparate se la prepara lei perché segue tutta una sua filosofia per i capelli e quindi se la prepara lei passiamo alla seconda scatola qui abbiamo i foglietti a chiappa colore che io uso sempre quando ho i capi un po colorati 32 fogli più 8 era una buona offerta e anche questi non mancano mai nella mia lavatrice poi sono due pacchetti di salvettine struccanti fresh and clean per pelli secche sensibili con acqua micellare 25 salvettine ogni pacchetto oltre le salvettine struccanti o quelle diciamo per tutti gli usi questi qui di farmacotone è la prima volta che le compro queste di farmacotone erano in offerta lo prese soprattutto perché in offerta perché bio perché a ph neutro e poi anche il prezzo era interessante ve lo lascerò comunque sempre pacchetto un secondo pacchetto di 72 salviettine si vede con una mano sola ve lo garantisco comunque ecco qua 72 salviettine poi il la carta tutto fare diciamo la carta cucina lo scottex per me la scottex rimane sempre la migliore questa due lati diversi diciamo che non è proprio la più conveniente però la preferisco ad altre marche compro anche altre marche ma quelle di più queste invece sono tovagliette vediamo se riesco a mostrarvele come si deve ecco sono tovagliette di carta che mi servono per molteplici usi 90 tovagliette sono belle le avevo comprate già queste sono della perla sono belle resistenti hanno vedete scritte relative alla cucina e io le uso per ad esempio sotto la macchina del caffè o sotto la insomma per la gabbietta del canarino qui avete visto la carta che ho tolto dagli scatoloni dicevo per la gabbia del canarino oltre la sabbietta metto anche sotto queste tovagliette per finire un rotolone di carta multiuso io tengo in bagno tengo in bagno con il poli di alcol per pulire la mattina velocemente i sanitari questa è della marca regina non lascia pelucchi la confezione cioè quello che avvolge il rotolone in carta riciclabile rispettiamo la natura dice appunto una confezione e questa è la mia spesa su tigotà vi lascerò poi il prezzo totale qua sopra non manco mai di fare la spesa online per un po non è stato possibile da tigotà per via del mio cap che era nei cap pericolosi tra virgolette ma finalmente ce l'ho fatta ciao a tutti un abbraccio un sorriso nel prossimo video ciao ciao